Il Giro dei Montecchio è pronto a spegnere le sue prime dieci candeline. Domenica la corsa podistica non competitiva organizzata dall'Associazione Sportiva Ranners Corico è pronta ad accogliere i numerosi partecipanti che ogni anno non vogliono mancare questa Kermes che è ormai diventata una classica per Corico. Confermato come esempio è il tracciato da otto chilometri che attraversa il Pian di Spagna, Lunguarda, Forte di Fuentes ed ovviamente il Forte Montecchio. Un tracciato naturalistico di rara bellezza così come confermato è anche il percorso ridotto da due chilometri memoria ad Adriano Tuzarini riservato ai ragazzi fino a 13 anni. E per il suo decennale non potevano mancare ospiti d'eccezione tra cui vincitore della scorsa edizione Marco De Gasperi e Delisa Desco che certamente daranno spettacolo sul tracciato che vedrà al via più di 500 concorrenti. Madrina della manifestazione sarà l'attrice Paola Onofri impegnata nei prossimi mesi nella registrazione del film 100 milioni di bracciate lungometraggio che racconterà la vita di Leo Callone il campione di nuoto di Gran Fondo originario di Mandello Dell'Ario che non a caso darà personalmente il via alle due gare e per festeggiare al meglio i suoi dieci anni la manifestazione vuole lasciargli il segno anche sul campo della solidarietà. Non solo continua il suonarizzo con il gruppo Aido di Corico che sarà presente con uno stand per distribuire dei pianti informativi sulla donazione di organi ma saranno sostenute anche le popolazioni colpite dal terremoto nel centro d'Italia per le quali verrà destinato parte del ricavato e proposta anche una raccolta fondi. Un'altra parte dell'introdito invece verrà devoluto all'associazione Hauser di Corico per il progetto Telefono a Casa un'edizione 2016 assolutamente da non perdere.